Ciao, sono Alberto Spatola e sono candidato al Consiglio Comune di Genova con la lista Crivello Sindaco. In questi cinque anni tante scelte non sono state fatte, ma ora a Crivello ha messo in campo la proposta che ci sia un Sindaco della Notte. Per me questo ruolo deve far sì che i vicoli, ma tutta Genova, sia un posto sicuro, con più eventi e con un maggior senso di comunità. Per cui c'è la necessità che chi fa musica, chi fa poesia, locale, associazioni che coinvolgono le persone, rendono viva Genova anche alle ore più piccole, sempre collaborini. Questo è il senso del Sindaco della Notte, questo è il mio impegno. Valorizzare Genova a partire dai vicoli ogni giorno, ogni ora, è importante, perché qui è dove ci incontriamo, dove raccontiamo e ascoltiamo nuove storie, qui è dove ci innamoriamo. E questo cuore giovane, multiculturale, deve essere un esempio, deve essere portato in ogni parte della città. Con le prossime lezioni, il futuro di Genova è nelle tue mani. Potrai scegliere il prossimo Sindaco e il prossimo Consiglio Comunale. Se condividi questo progetto, l'11 giugno dalle 7 alle 23, va nel seggio più vicino e impugna la matita. La tua voce conta. Metti una croce sulla lista Crivello Sindaco e scrivi Alberto Spagola. Buon voto. Grazie. Grazie.